Il tema dell'immigrazione al centro di un vartice urgente che si svolgerà lunedì a Venezia. Il prefetto Domenico Cuttaia ha colto la richiesta inviata ieri dal presidente della regione Veneto. Luca Zai aveva chiesto l'incontro per fare il punto della situazione sull'accoglienza nel territorio. L'appuntamento è stato fissato per il 15 giugno alle ore 15 in prefettura, nella città lagunare. La situazione su tutto il territorio Veneto è definita al collasso. A lanciare appelli ed SOS sono gli stessi amministratori locali che hanno grosse difficoltà nella gestione. Negli ultimi giorni gli arrivi sono stati numerosi e ancora continuano.